Ben trovati a voi tutti, eccoci ad un nuovo appuntamento con Belluno Economia, quest'oggi focus sui giovani, collegato naturalmente al mondo del lavoro, al mondo delle aziende. Abbiamo il piacere di avere con noi Luca Anselmi, che è il presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti. Ben trovato. Grazie dell'invito, un caro saluto a tutti. Grazie di essere tornato nei nostri studi Luca, perché sappiamo appunto che lei era già stato qui con noi a poco tempo dalla sua elezione alla guida dei giovani imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti. Adesso continuiamo un pochettino i ragionamenti che già avevamo fatto, focalizzandoci su questo 2024. Come si è aperto per voi, giovani imprenditori? Quali sono gli appuntamenti, le sfide, le cose più importanti, diciamo, che vi vedono protagonisti nei prossimi mesi? Assolutamente, grazie per la domanda. Il 2024 si è aperto molto bene, abbiamo una programmazione abbastanza fitta, di cui adesso parleremo fino a luglio, quindi per questo primo semestre. Abbiamo già fatto degli interventi sia nel mondo scuole, di cui ci occupiamo molto da vicino, nel nostro rapporto con i ragazzi, nella nostra missione di divulgazione nel mondo delle imprese e abbiamo fatto anche delle attività di networking a livello di sviluppo associativo. Allora, mi piace partire da quello che è scuola, nel senso che abbiamo avuto la possibilità di organizzare un'assemblea all'Istituto Caldi di Belluno con la partecipazione straordinaria anche dei ragazzi stessi e quindi in una vera e propria collaborazione, in cui siamo riusciti a portare le imprese del territorio a diretto contatto con i ragazzi durante una delle loro assemblee d'Istituto, che si è svolta un po' come una fiera, nel senso che in ogni aula c'erano degli imprenditori veri, dei CEO, quindi non chi per loro, ma veramente è stato bellissimo perché professionisti d'eccezione si sono messi in gioco, si sono messi in prima linea nel rapporto con i ragazzi e i ragazzi a ogni, diciamo, cambio dell'ora riuscivano a ruotare, a prenotarsi per quelli che erano degli interventi e delle chiacchierate più o meno formali su quello che è il mondo del lavoro, sulle professioni, ma anche sull'esperienza di queste persone, che è sempre importante da trasferire a chi si sta orientando. Ecco, qual è il valore strategico di un'iniziativa di questo tipo? Che è stata realizzata, mi ricordi, l'Istituto Calvi. Qual è il valore? La sensibilizzazione, sia a livello di geografia, di imprenditoriale del territorio, perché tante volte siamo orientati verso pochi settori ben noti e non sulla straordinaria varietà e eccezionalità che c'è nel nostro mondo imprenditoriale, nel nostro tessuto. Il tessuto bellunese a livello di imprese, di industrie è tra i più sviluppati importanti della nazione, questo dobbiamo ricordarcelo sempre. Ma è anche una sensibilizzazione sul spingere i ragazzi a potersi sviluppare, poter crescere, non dare per scontato che non potranno a loro volta essere imprenditori un domani, chi più chi meno, non per forza avere una super industria ma anche imprenditori di se stessi, come si dice. E quindi l'esempio che viene portato è sempre, sempre positivo. È stato bello, io personalmente sono andato e sentire, entrare in una scuola molto quieta e silenziosa, bussare alle aule, vedere tanti ragazzi attenti e partecipi con tante domande, è stato positivo. Mi ha lasciato un bel feedback. Esatto, il riscontro che potete ricevere anche voi è qualcosa di accattivante, di gratificante. Assolutamente, vorrei che, anzi stiamo lavorando per cui questo possa diventare un format da riproporre ad altre scuole nei prossimi anni. Ecco, invece di format che sono ormai una tradizione c'è l'appuntamento con Apericeo, che è questo incontro tra imprenditori, chi già fa appunto di mestiere l'imprenditore con, possiamo dire, altri imprenditori più esperti, forse persone che comunque hanno una carriera anche lunga talvolta. E ritorna a questo appuntamento? Assolutamente, ritorna, ricomincia. Abbiamo in mente una serie di relatori che già abbiamo contattato e stiamo finalizzando la programmazione, però è importante ricordarsi che il 5 aprile alle 6 in Villa Dolioni del Mass si svolgerà il primo Apericeo Aperto dell'anno. e abbiamo cambiato paradigma, nel senso che non avremo un super mega manager, diciamo, con la sua esperienza di fronte a noi, ma avremo un ragazzo come noi, che ha 27 anni. Ecco, quindi avete fatto proprio un cambio in questa occasione, novità anche su questo fronte. È un ragazzo che ha 27 anni, tra l'altro l'ho sentito in questi giorni, ha cominciato a lavorare mentre ancora studiava all'Università di Trento, la Facoltà di Ingegneria, si chiama Andrea Franceschini, è stato nominato l'anno scorso da Forbes come uno dei migliori under 30 innovativi in Italia, nel suo settore, e quindi vogliamo combinare, forse non tutto quello che può essere un ritorno di esperienza da una persona che in fondo ha la nostra età, ma sicuramente parla la nostra lingua e vive i nostri stessi problemi, solo che magari è quel pizzichino in più che può trasmetterci. Certo, quindi un incontro che può essere davvero accattivante anche per il pubblico di giovani. Ricordiamo l'appuntamento alle ore 18 il 5 aprile, corretto? Assolutamente, aperto a tutti. Aperto a tutti. E poi che cosa c'è in programma anche secondo quel calendario che avete stabilito per i primi sei mesi della vostra attività? Sì, abbiamo in programma di fare delle trasferte al di fuori della provincia, in terra trentina, con la partecipazione di una nostra piccola delegazione al Festival dell'Economia di Trento. È un contesto internazionale dove tra l'altro c'è un evento nazionale dei giovani imprenditori, a cui parteciperemo come spettatori, e serve per portarci a prendere ispirazione attraverso quello che ormai è un contesto riconosciuto a livello nazionale e anche oltre. Abbiamo in programma un'altra trasferta in terra toscana a inizio giugno, questo per i nostri associati o per chi è in procinto di associarsi e vorrebbe associarsi. Andremo a visitare delle aziende del luogo e tendenzialmente l'idea sarebbe quella anche di creare l'opportunità di networking vero e proprio con i nostri omologhi del territorio di Firenze. È importante, importantissimo invece, segnarsi il 7 luglio perché ricorre il 65esimo anniversario del gruppo Giovani Imprenditori di Belluno e stiamo organizzando una giornata evento sia rivolta agli associati e alla loro formazione professionale in maniera hard, in cui stiamo coinvolgendo la Louise Business School e quindi faremo un workshop dedicato ancora in lavorazione riguardo ai temi innovativi su come condurre l'impresa, quindi qualcosa che possa rimanere ai ragazzi e agli imprenditori e la sera vorremmo fare una sorta di evento, un'assemblea un po' più pubblica aperta a tutti in cui invece parleremo di passaggio generazionale anche rivolto a quello che sono le imprese del territorio che hanno una loro storicità. Quindi abbiamo visto un bel calendario in programma, sono tanti gli appuntamenti. Presidente, lei conviene con me che naturalmente tutto questo è possibile grazie anche alla forza, al lavoro condiviso del vostro gruppo. Naturalmente lei rappresenta i suoi colleghi, è uno, è qui con noi oggi, però voglio dire poi c'è la sinergia, il lavoro di squadra, giusto? So che ci tiene molto a questo aspetto. Forse sono nella condizione migliore in cui vorrebbe trovarsi un qualsiasi manager, un qualsiasi imprenditore perché all'interno del gruppo sono circondato da persone che sono migliori di me e quindi gestisco una squadra che è veramente forte. In tutto e per tutto siamo divisi in team di lavoro molto efficaci, taglienti mi piace dire, molto smart. Sì, forse questa è l'impresa giovane che vogliamo. Lei è molto modesto però anche Presidente, siete un bel gruppo, ecco chi vi conosce insomma lo percepisce fin da subito. Quindi buon lavoro, buon lavoro a lei e a tutto il team e naturalmente noi ci ritroveremo in futuro proprio per seguirvi e continuare a vedere da vicino le tante iniziative portate in provincia. Buon lavoro Anselmi. Grazie, ci conto, a presto. E a tutti quanti voi che ci avete seguito, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie.